Erasmo nacque a Rotterdam nel 1466 e durante la sua vita si spostò in vari paesi europei entrando in contatto con i principali centri culturali dell'epoca e avendo modo di rimanere incantato dalla bellezza insita nella diversità culturale dell'Europa, capendo quanto questa diversità fosse preziosa e faccio un inciso a tal proposito riagganciandomi a stupidità contemporanee. Il progetto universitario Erasmus nasce proprio dall'esperienza di questo grande umanista e al cuore del progetto ci deve essere l'Europa altrimenti il progetto non avrebbe senso. Fare l'Erasmus diciamo a casa propria è davvero l'apoteosi delle boiate dell'ultima ora che si possano sentire da parte di chi punta molto in alto. Laddove i pesci sono muti invece e per forza di cose chi punta in alto deve mettere tanta carne sul fuoco perché ormai qui è una lotta a chi la spara più grossa. Poi va molto di moda mi sembra la formula del figlio di papà che si mette a fare Ernesto Che Guevara quando poi all'atto pratico le persone disagiate vere sono sempre di più e sempre più povere. Quindi per favore italiani cerchiamo di non pagare sempre gli stipendi a politici che si improvvisano con idiozie di questo genere facendole passare per chissà quale grossa proposta perché chi ha studiato sa perfettamente che cosa è il progetto Erasmus e chi era Erasmo da Rotterdam. Ritorniamo a una politica seria, ritorniamo a ragionare e non al fatto che la politica sia diventata il luogo dove si fanno soldi facili e si sistemano figli e figliastri. Chiuso l'inciso torniamo a Erasmo. Erasmo studia e si forma a Parigi e nel 1492 diventa sacerdote. Si trasferisce poi in Inghilterra dove conosce Thomas More e lo ritroviamo ancora nel 1506 in Italia, a Torino per la precisione, dove diventa dottore in teologia. Nel 1517 ottiene dal papa la dispensa dai voti monastici e quattro anni dopo si trasferisce a Basilea e in seguito trascorre altri sei anni a Friburgo per poi tornare a Basilea dove Erasmo muore nel 1536. La formazione internazionale di Erasmo testimonia una grandissima levatura intellettuale e morale. Erasmo frequenta tra l'altro illustri esponenti della scena culturale a lui coeva, come nel caso di Moro in Inghilterra, tutti aspetti che fanno di Erasmo un uomo ormai moderno il cui pensiero era tenuto in grandissima considerazione da tutti gli intellettuali del periodo. Erasmo era tra l'altro una persona estremamente affabile, a modo e non aveva mai avuto scontri o motivi di frizione con papi o sovrani europei, godendo al contrario della loro protezione, anche se l'unico scontro Erasmo lo ebbe con Lutero, uno scontro ideologico riguardante il libero arbitrio che Erasmo contrapponeva convintamente alla teoria del servo arbitrio di Lutero. Tra le maggiori opere di Erasmo ricordiamo l'Epistolario, in cui l'autore ci lascia una preziosa testimonianza dei rapporti da lui intrecciati con i più importanti intellettuali del tempo, il manuale del soldato cristiano, l'elogio della follia scritto nel 1511, forse la sua opera più importante, e infine l'instituzio principis cristiani nonché la famosa diatriba del libero arbitrio del 1524.